Con la chiusura della rotta balcanica e l'arrivo della bella stagione, come prevedibile, si sono intensificati gli sbarchi sulle coste italiane. I migranti, salvati, accolti e poi trasferiti nelle varie regioni d'Italia, stanno mettendo in crisi in Toscana il modello dell'accoglienza diffusa. Giorni fa era stata l'assessore di Palazzo Vecchio, Sara Funaro, a lanciare l'allarme, mentre il sindaco di Pietrasanta ribadisce la sua intenzione di aiutare chi già si trova sul territorio. Noi non possiamo non accogliere i profughi e chi sta peggio di noi. Pietrasanta è la città dell'accoglienza, abbiamo l'unico centro per estracomunitari in tutta la costa toscana, lo abbiamo solo a Pietrasanta. Noi aiutiamo 291 soggetti dalla provincia di Carrara sino alla provincia di Pisa, all'interno compreso la provincia di Lucca. Li aiutiamo noi, l'abbiamo qua e lo finanziamo tutti i giorni. Un conto è far questo, un conto è dire trovate posto a 40-50 persone. Io ho 165 famiglie in lista d'attesa e 50 famiglie mi dormono sulla macchina e di queste il 70% sono stranieri, perché la legge regionale per l'accoglienza nelle case popolari prevede ovviamente una serie di regole che avvantaggiano i nuclei più numerosi, con redditi bassissimi e che purtroppo sono quelli che arrivano da fuori, di conseguenza stranieri. Quindi noi l'accoglienza la facciamo, ma se tu mi chiedi di mettere da parte questi disgraziati che già stanno aspettando da anni e fanno entrare altri 40, io ti dico prima sistemiamo i 165 di cui il 70% sono stranieri, poi appena fatto questo o insieme a questo mettiamo a posto anche gli altri 40. Grazie.